La parte che ci ha assorbito più stimoli, più interesse è stata proprio quella di creare degli spazi confortevoli e quindi giocando un pochino sui materiali, sulla flessibilità degli spazi, sulla sostenibilità e sulla socializzazione. Infatti l'edificio ha un piano dedicato completamente al coima caffè, un luogo dove ci si può incontrare, ci si può parlare, ci si può confrontare e ci si può anche lavorare perché proprio il principio dello smart working è che grazie alla tecnologia noi possiamo lavorare in qualsiasi luogo. I colori sono dei colori neutri, sono colori rilassanti, riposanti, ma la maggior parte di questi prodotti rientrano nella catena del cradle to cradle che è una certificazione che è stata praticamente messa appunto da questo architetto americano William Eddano e un chimico tedesco che parte dal presupposto che non dobbiamo riciclare i rifiuti, dobbiamo evitare che ci siano i rifiuti, quindi ridurre i rifiuti e riportare proprio dal cradle to cradle significa dalla culla alla culla, cioè riportare il prodotto alle sue origini, non alle sue trasformazioni. Quindi questo è un edificio pensato e arredato con proprio il principio della sostenibilità che è quello che fa vivere bene l'individuo perché quando si parla di wellness si pensa a delle forme di benessere che non implicano e non vanno a cercare invece la radice che la radice è proprio che lo star bene è proprio la sostenibilità nell'ambiente di lavoro che vuol dire non sostanze inquinanti quindi tutto quello che c'è fa star bene la persona di salute e quindi quando c'è un ambiente sano automaticamente anche la persona si sente bene e apprezza e vive bene lo spazio nella sua interezza.